franco fracassi giornalista e scrittore recentemente autore di un'inchiesta sull'origine del sars cov 2 da cui sta realizzando con federica ipsaro passione un libro il cui titolo è già stabilito i misteri di one da dove nasce la sars cov 2 quali certezze e quali sospetti emergono dalla sua indagine innanzitutto buongiorno a tutti quanti in realtà non si ha nessuna certezza sull'origine della sars cov 2 perché perché non è mai stata fatta un'inchiesta in proposito non ci sono inchieste ufficiali l'organizzazione mondiale della sanità per la verità ha inviato lì una una delegazione per investigare una commissione il problema è che ha il questa diciamo il perimetro di indagine questa commissione è stato stabilito da una trattativa che si è fatta tra l'organizzazione mondiale della sanità la cina è già di per sé è una cosa bizzarra è come se uno trattasse con un sospetto omicida su che cosa può indagare su di lui e cosa no secondo il presidente il segretario generale dell'organizzazione mondiale della sanità è stato messo lì dalla cina quindi ovviamente farà di tutto per non danneggiare la cina terzo il presidente della delegazione il capo della delegazione che è andato a investigare un americano è colui che dirigeva le ricerche nel laboratorio Wuhan quindi sostanzialmente ha indagato su se stesso ultima cosa ha detta degli stessi membri della commissione almeno di quelli che hanno voluto raccontarlo la commissione ha avuto accesso solamente a alcuni edifici ed è ad alcuni documenti e a quel in base a quello che ha potuto vedere e ai documenti a cui ha avuto accesso sostanzialmente detto il virus è frutto di un origine di una catena animale quindi naturale però in realtà tutto il resto del lavoro che non ha potuto fare gli è stato consegnato da una commissione messa su dal governo cinese quindi diciamo che non esiste veramente dire che questa questa indagine non è messa sia farlocca e diciamo anche fargli un grosso favore in più aggiungo un altro aspetto da quello che è emerso da sia dagli articoli scientifici ufficiali pubblicati da chi faceva ricerca laggiù sia dagli scienziati che lavorano laggiù sia da chi ha fatto visita a questi laboratori prima dello scoppio del covid in questi laboratori non c'era solamente non erano i classici laboratori quelli con le provette quello che vediamo sempre insomma tutti quelli scaffandrati con le provette ma venivano tenuti anche molti animali come cavie e quindi all'interno di questi laboratori si è fatta proprio la sperimentazione della trasmissione naturale del virus quindi ammesso che poi si scopra che si è trattato di una catena naturale questa catena naturale è potuta anche avvenire all'interno del laboratorio stesso pare però che a Wuhan non comandasse solo solo la Cina chi altro era coinvolto allora no non comandava solamente la Cina intanto ho sempre precisato che quel laboratorio cinese è stato costruito dai francesi che già di per sé è una cosa assurda comunque detto questo erano coinvolte molto pesantemente gli Stati Uniti d'America scienziati americani erano coinvolti diciamo dal 2007-2008 quindi stiamo parlando di 13-14 anni fa e dal 2017 gli Stati Uniti hanno sostanzialmente preso possesso di quel laboratorio nel senso che l'hanno finanziato finanziava una ricerca hanno mandato i loro scienziati hanno addirittura mandato i loro ispettori del ministero degli esteri è come se fosse un loro laboratorio in cui venivano messe in atto anche le procedure di sicurezza che utilizzavano gli americani nei loro laboratori. Di fatti prima dell'incidente a Wuhan ce ne fu un altro a Fort Detrick vicino a Washington a giugno del 2019 molto simile a quello di Wuhan. Cosa accadde di preciso? Allora in giugno del 2019 a Fort Detrick ci fu un incidente e il laboratorio di Fort Detrick in realtà era stato già diciamo si era trovato in una situazione critica l'anno precedente per una fuga di liquami infettati dal laboratorio. Nel 2019 accade che improvvisamente intorno nell'aria intorno al laboratorio Fort Detrick incominciano a ammalarsi persone. Le cronache del tempo, dei giornali, soprando del New York Times, del Washington Post o anche dei giornali locali raccontano di una strana malattia respiratoria eccetera eccetera che ha tutte, tutte le caratteristiche se uno si legge tutti i sintomi sono esattamente i sintomi del Covid. Quindi diciamo, considerando che la SARS era uno dei virus che venivano manipolati all'interno del laboratorio Fort Detrick sembrerebbe strano non si trattasse di Covid visto che anche aveva lo stesso tipo di trasmissione. che succede? Questo laboratorio viene chiuso nel luglio 2019, in seguito a questi articoli viene chiuso e è una cosa che non succede, immaginate una base militare enorme, la più importante, una delle più importanti basi militari americane che viene chiusa con la giustificazione nel momento in cui ovviamente vari parlamentari, sia deputati che senatori degli Stati Uniti chiedono conto di questa cosa, la risposta è sempre la stessa, segreto di Stato, sicurezza nazionale quindi viene chiuso senza motivo. Allora che succede? Succede che una parte di questi scienziati lavora anche nel, lavorava anche nel laboratorio Wuhan, c'erano gli stessi scienziati militari, vorrei sottolineare questa cosa, scienziati militari che lavoravano all'interno di una struttura militare cinese, scienziati militari statunitensi, lavoravano anche all'interno del laboratorio Wuhan e appunto all'interno del quale si adottavano le stesse procedure di sicurezza che sono fallite al laboratorio Fort Dietrich e a Wuhan tre mesi dopo c'è un incidente identico di cui non se ne è mai parlato, cioè di questo incidente nessuno ha mai detto nulla. Questa è una cosa assurda, cioè è possibile che con i riflettori puntati su una città che dovrebbe essere, che è l'origine di quanto sta accadendo in tutto il mondo, di una pandemia mondiale, si sa perché non sono cose segrete che questo laboratorio c'è stato un incidente ed è stato chiuso e i giornali, le televisioni di tutto il mondo non parlino da mesi di questo incidente, perché probabilmente è stato un incidente che ha poi portato all'inizio della pandemia e la cosa assurda è che questo incidente, la coincidenza, perché si tratta di una coincidenza, questo incidente è avvenuto pochi giorni prima, all'inizio giochi mondiali militari che hanno portato a Wuhan 10.000 atleti di tutto il mondo, di 109 paesi del mondo, da cui Italia e tanti altri paesi e da lì in poi la pandemia ha incominciato a diffondersi in tutto il mondo e allora si cerca il mercato, si cercano un sacco di cose, ma lì c'è stato un incidente dentro questo laboratorio, il laboratorio dove, ripeto, si lavorava la SARS, dove si lavorava, si facevano manipolazioni sulla SARS anche nel senso del Covid, nel senso che poi chi stava, gli scienziati che stavano lavorando lì, hanno avuto, avevano già tantissime informazioni sul Covid, perché stavano lavorando su questo. Una curiosità, che esperimenti si facevano nel laboratorio di Wuhan? Cioè si facevano anche armi biologiche a base di SARS? Allora, sì e sì, cioè sì, si facevano armi biologiche a base di SARS, ma la cosa incredibile è che a Wuhan si facevano degli esperimenti che siano guadagni di funzione, che sono vietati, ripeto la parola vietati, nella gran parte dei paesi del mondo, perché giudicati pericolosissimi. In cosa consistevano? Consistono in prendere un virus e nel modificarlo trasformandolo nella versione peggiore di se stesso. È come, non saprei, è come prendere delle centrali nucleari e costantemente fare degli esperimenti in cui le centrali nucleari si portano al limite, al limite dell'esplosione, no? E poi ovviamente si rientra nella cosa. Allora, voi se fosse il capo di un governo di un paese autorizzereste una cosa del genere, cioè è evidente che prima o poi sta centrale esplode ed è quello che è dell'allarme che hanno lanciato non qualcuno, ma decine e decine dei più, tra i più prestigiosi scienziati del mondo negli ultimi anni. hanno detto fermatevi, fermatevi, fermatevi. Tant'è poi negli Stati Uniti queste cose erano state bandite, questi esperimenti sono stati vietati anche negli Stati Uniti. Invece in Cina no. E in Cina si continuano a condurre. E negli Stati Uniti sono stati riautorizzati dal 2017 per ordine di Donald Trump. Cioè Donald Trump ha autorizzato di riprendere questi esperimenti solo sulla SARS però, non su altro. e la stessa cosa si faceva in Cina. In Cina si facevano esperimenti di questo tipo sulla SARS. Allora, le armi biologiche, la Cina come gli Stati Uniti posseggono armi biologiche, cosa sarebbe vietata? Cioè la Convenzione di Ginevra vieta di possederle, però come sappiamo spesso i paesi, soprattutto se sono potenti, se ne fregano altamente delle convenzioni internazionali. Le armi biologiche si sviluppano proprio facendo questo tipo di esperimenti, cioè si prendono dei virus o dei batteri e si trasformano in qualcos'altro. Quindi questi esperimenti servono anche per sviluppare armi biologiche. E in un rapporto, nemmeno tanto recente, del governo australiano, quindi una cosa ufficiale, non una cosa così, il governo australiano ha denunciato in tutto il mondo il fatto che l'arma biologica preferita da chi aveva questi arsenal era diventata la SARS, perché è un'arma efficientissima, perché un'arma biologica non deve ammazzare tutta la popolazione del paese che viene colpito da quest'arma, ma deve sostanzialmente metterlo in difficoltà, cioè deve far sì che questo paese sia messo in ginocchio, questa è la cosa. E la SARS, come lo stiamo vivendo tutti i giorni, il Covid è perfetto per questa cosa. Allora, in quel luogo si facevano esperimenti su armi biologiche e questi guadagni di funzioni servono a due cose, per le armi e anche per i vaccini. Lì si facevano gli esperimenti anche per i vaccini e se voi andate a vedere le aziende che finanziavano questi esperimenti, erano tutte aziende farmaceutiche che producevano vaccini, tra questi per esempio c'è la Johnson & Johnson. Non mi si venga a dire che erano solo otto mesi che si stava lavorando sul vaccino. Quindi era molto più tempo e la Johnson & Johnson stava lavorando sul vaccino nel laboratorio di Wuhan, questo è quello che emerge dalla sua inchiesta. E anche nel laboratorio di Ford Dietrich. E anche nel laboratorio di Ford Dietrich, in tutte e due lavorava la Johnson & Johnson. Esattamente, anche se erano due laboratori militari e queste sono quelle altre cose assurde, insomma, in cui Big Pharma ha a che fare con i laboratori militari. Quindi un privato che entra all'interno di un laboratorio militare con tutto ciò poi che ne consegue. Alla luce della sua indagine, che idea si è fatto di questa pandemia? Lei adesso è andata a prendere proprio la parte dell'origine del virus. Precedentemente ha realizzato un'altra sua opera chiamata protocollo contagio, in cui parlava sempre del Covid, ma sotto un altro aspetto. Che idea si è fatto di questa pandemia? Allora, mi sono fatto l'idea che, non so, è come quando accadono i terremoti. Il terremoto è qualcosa di non prevedibile. Probabilmente, io non credo che qualcuno volontariamente abbia sparto il virus in giro. Però diciamo che si è giocato col fuoco. E una volta che questo è accaduto, c'erano soggetti che erano molto ben informati. Come ho raccontato in protocollo contagio, c'erano governi che erano informatissimi da prima. C'erano anche soggetti privati che erano informatissimi, come abbiamo visto molte case farmaceutiche. E semplicemente hanno... Vi ricordate quando ci fu il terremoto dell'Aquila che c'erano gli imprenditori che festeggiavano in piena notte? Ecco, io credo che quando questo virus si è trasformato in qualcos'altro, insomma, si è trasformato in una... ha fatto sviluppare queste epidemie fuori la pandemia, ci fossero molte persone in giro poi il mondo che stavano festeggiando per vari motivi. Stavano festeggiando perché potevano fare soldi, stavano festeggiando perché potevano acquisire potere, stavano festeggiando perché, diciamo, potevano... il mondo poteva andare nella direzione senza che loro facessero assolutamente nulla nella direzione che loro volevano. Ecco, indipendentemente se la cosa sia avvenuta, sia uscita da quel laboratorio oppure no. Ovviamente non si ha la prova in un senso o nell'altro anche se, come diceva qualcuno, quando si hanno tante prove, tanti indizi anzi, questi tanti indizi fanno una prova e noi abbiamo tantissimi indizi, fanno tutti, non è che vanno in qualche lato, tutti nella stessa direzione, però ammesso che sia una cosa del tutto naturale, in ogni caso in quei laboratori si facevano queste cose e non si potevano fare e chi le faceva era ovviamente molto, molto informato su quel che stava accadendo e quando si trattava di dare la caccia al vaccino, tanto per dirne una, ovviamente chi ci stava lavorando ha avuto un enorme vantaggio rispetto a tutto il resto del mondo. Perfetto, adesso ci siamo fatti una breve chiacchierata con alcune anticipazioni, volevamo sapere soprattutto anche poi per chi ci segue quando il libro sarà ultimato e come fare ovviamente per poterlo acquistare. Il libro sarà ultimato tra un mesetto e mezzo, però io e Federico abbiamo già lanciato una campagna di preacquisto del libro che io invito a chi è interessato a preacquistarlo perché questo faciliterebbe anche tutta l'organizzazione sia della stampa che della distribuzione e per chiunque voglia preacquistarlo sappia che innanzitutto chi lo preacquista avrà sempre e comunque il libro con la dedica, quindi diciamo qualcosa di diverso rispetto a chi acquista normalmente i libri e poi chiunque voglia preacquistarlo per favore e mi scrivi un'email, la mia email è francofracassi1-gmail.com, francofracassi1-gmail.com, mi scrivete un'email e vi spiego tutto quanto come fare da acquistare questo libro.